Musica Ciao Team Instinct, volevo dirvi che il 10 settembre ci sarà il torneo di Pokemon Go in Piazza Fulcheria a Crema Nuova dalle 14 alle 19 vi invito tutti a venire, ci saranno un sacco di premi come dei DVD, l'iscrizione alla patente è completamente gratuita poi ci saranno degli sconti in vari negozi che si potranno usare, l'action figure dei Pokemon, dei dadi da gioco e tantissimi altri premi mi raccomando cerchiamo di vincere tutto che effettivamente i blu hanno rotto il cazzo e i rossi vabbè è come se non ci fossero ci vediamo il 10 e tu da che parte stai?